Siamo con Cristian Sabia che è il presidente della Proloco del Comune di Altavilla-Silentina e siamo con lui qui per presentare la Sagra del Melone della Pizza altavillese. Presidente, quando ha inizio questa manifestazione e diciamo anche ai nostri telespettatori quello che potranno gustare e poi insomma è tutta allietata da anche la buona musica? Allora sì, anche appunto quest'anno si terrà la Sagra del Melone della Pizza altavillese che è dal 10 al 16 agosto ad Altavilla-Silentina in piazza Don Giustino Maria Russolillo. Sette sere di puro divertimento con musica live ovviamente, liscio latino-americano, pizzica tammuriate. Sette sere anche con grande cura per i bambini perché ci sarà l'animazione per i bambini per tutte e sette le sere quindi con minni, topolino, trambolieri, mangiafuoco. Praticamente veramente saranno sette sere di puro divertimento per tutta la famiglia. Durante le sere si potrà degustare la classica pizza altavillese che è praticamente pomodoro cotto con formaggio di capra, pizza margherita e altre degustazioni di vario genere sempre di prodotti tipici locali. Una cosa diciamo anche quelli che sono i prezzi perché sono veramente molto molto approcciabili per le famiglie. Sì, infatti proprio in periodo di crisi il nostro obiettivo è stato quello di mantenere veramente i costi più bassi possibili. Quindi pizza, bibita e melone a solo 6 euro il tutto. Quindi Presidente, diciamo a tutti che chi vuole passare una bella serata all'insegna della buona musica e soprattutto del buon cibo venga insomma lì ad Altavilla. Infatti vi aspetto tutti dal 10 al 16 agosto ad Altavilla, Silentina, Piazza Don Giustino, Maria Rossolillo per la settima edizione della Sagra del Melone e della pizza altavillesa. Grazie a tutti.